Negli ultimi anni la pittura è sicuramente il mezzo con cui sono riuscito a esprimermi al meglio. Quando ho iniziato a dipingere, all'incirca sei anni fa, ho acquistato i primi pennelli Borciani Bonazzi nel negozio in città. Ma è da meno di due anni che sono entrato in diretto contatto con le persone che compongono questa bella realtà italiana. Non credo di aver mai sognato o desiderato di firmare uno strumento. Tanto meno dei pennelli. Tuttavia come tutti ho desiderato di essere felice facendo quello che amo fare e quello che sono. Il mio set è composto da quattro pennelli, tutti con filato sintetico ma diverso l'uno dall'altro. Ad esempio il pennello piatto ha una fibra imitazione scoiattolo che conferisce una punta estremamente compatta. Che regala un tratto pieno allo stesso tempo grafico e che valorizza la texture della mia carta. I due pennelli tondi hanno sezioni differenti e fibre con caratteristiche diverse. Quello più grande è il perfetto compromesso tra precisione, morbidezza, capacità di serbatoio, mi verrebbe da dire il pennello indispensabile. Mentre il più piccolo lo uso principalmente per tratti densi di pigmento e decisi, quasi calligrafici che creano il ritmo della pittura. Il rigger, o meglio da me battezzato bisturi, è l'albero maestro di questo set. Un tiraline che mi ha stupito per sensibilità al tocco e capacità di serbatoio. Per me è stata una vera rivelazione. Borciani e Bonazzi è riuscito a tradurre materialmente quello che è stata la mia esigenza. Avere pennelli con punte precise e allo stesso tempo una grande dinamica al tocco. Devo ringraziare Borciani e Bonazzi per l'opportunità che mi ha dato poter dipingere con gli strumenti che ho pensato così da poter fare quello che amo e quello che sono.